Nell'incantevole dimora storica di Arco Paesiello e il prestigioso centro eventi sito nel Borgo Antico di Taranto è stato presentato il programma del Giovanni Paesiello Festival, manifestazione pugliese d'eccellenza della musica e della cultura dedicata al grande compositore tarantino del periodo tardo barocco che giunge quest'anno alla sua dodicesima edizione in programma a Taranto dal 5 al 18 settembre prossimi. Il musicologo Lorenzo Mattei, direttore artistico del Festival e Paolo Ruta, presidente degli Amici della Musica Arcangelo Speranza che organizzano la manifestazione hanno illustrato il programma della raffinata rassegna segnalando come l'offerta musicale che in questa edizione particolarmente ricca si è indirizzata alla valorizzazione del patrimonio della scuola Appulo Napoletana del Settecento in cui la ricerca, il recupero e la revisione di partiture inedite possa costituire un importante banco di prova per nuove generazioni di interpreti locali e nazionali. 12 anni di attività, 5 opere prodotte, numerosi concerti, quest'anno partiamo con un'edizione molto interessante che si aprirà con un recital del grande soprano Stefania Bonfadelli e proseguirà fino al 17-18 settembre con la produzione di un'opera lirica, la Semiramide in Villa, rappresentata per la prima volta in tempi moderni un'opera, un intermezzo buffo che fa tornare l'opera lirica a Taranto e quindi è un grande orgoglio per noi poterla produrla, ripeto, in prima esecuzione e poi abbiamo coinvolto anche molti giovani in questa opera e anche in tutto il festival e diciamo che è un festival prettamente giovanile, la regia è curata da Stefania Panighini che è una giovane regista oramai acclamata a livello internazionale e a dirigere sarà Giovanni Di Stefano, insomma un festival dalle grandi aspettative. Il programma della dodicesima edizione del Giovanni Paesiello Festival in programma a Taranto al Museo Diocesano nella Città Vecchia dal 5 al 18 settembre prossimi Direttore artistico il musicologo Lorenzo Mattei Alla conferenza stampa di presentazione vi erano Paolo Ruta, presidente degli Amici della Musica l'assessore Francesco Cosa del Comune di Taranto e la consigliera regionale Anna Rita Lemma Una manifestazione d'eccellenza della musica e della cultura Il programma della raffinata rassegna è indirizzato alla valorizzazione del patrimonio della scuola appulo-napoletana del Settecento Aprirà il Festival Recital Era La Notte il 5 settembre Nel corso della stessa serata sarà assegnato il prestigioso premio Giovanni Paesiello Festival 2014 attribuito annualmente a figure di studiosi e personalità dello spettacolo o delle istituzioni Tutti gli spettacoli del Festival si terranno nel Chiostro del Moody Per il programma e gli eventi nel dettaglio www.giovannipaesiellofestival.it Quali sono gli aspetti di più alto livello che vale la pena sottolineare? Sì innanzitutto il ritorno a una produzione operistica che è unica sulla realtà locale e che ci ha portato a riesumare un'opera di Paesiello dopo alcuni anni per cui un ritorno alla produzione lirica Poi un aumento degli appuntamenti che arrivano a sei e un incentivo come sempre dato alle giovani voci sia sull'opera sia su uno dei tre appuntamenti vocali E poi l'altra cosa da sottolineare la conclusione dell'integrale dell'esecuzione in edizione critica dei quartetti di Paesiello per cui come sempre ricerca musicologica incentivo ai giovani talenti e poi soprattutto lo spirito del melodramma paesielliano che ritorna nella sua terra d'origine, nelle sue radici